Bates Corner Glossario minimo di psicologia B come binge eating disorder Il binge eating disorder o il disturbo di alimentazione incontrollata è caratterizzato da ricorrenti abbuffate, almeno una settimana, spesso innescate da un umore depresso o ansioso, oppure da emozioni negative. I binge eaters provano vergogna per le proprie abitudini alimentari, quindi cercano di nascondere la ritualità delle abbuffate o mangiano in segreto. Aggredire grandi quantità di cibo serve ad allontanare i pazienti dalle emozioni intollerabili e a restituirgli un senso di benessere. Gli effetti positivi del cibo sono solamente le conseguenze a breve termine. Dopo l'abbuffata, la gratificazione legata al cibo e al senso di pienezza cede il posto alla spossatezza, al fastidio fisico e al peggioramento dell'umore.